L'Inter c'è, l'Inter è sul pezzo, l'Inter fa sul serio, si è presentata a questa Europa League con l'obiettivo di far bene, con l'obiettivo di andare avanti e il primo ostacolo, il primo insidiosissimo ostacolo è stato superato. Inter batte Getafe 2-0 in questi ottavi di finale di questa nuova Europa League in gara secca, approda ai quarti dove si affronterà lunedì la vincente dello scontro tra Rangers di Glasgow e Bayer Leverkusen con il Bayer che parte dal vantaggio di 3-1 dell'andata, concentriamoci su questa partita però. È stata un'ottima Inter che conferma i buoni segnali, anzi gli ottimi segnali che avevamo intravisto nel finale di campionato, si conferma un'ottima Inter che è in forma, è in palla, che mette da parte tutte le voci, avevamo molto bisogno di mettere da parte tutto quello che è successo nel post Atalanta-Inter, si concentra sul campo, soffre perché i primi 25 minuti sono stati praticamente quasi un dominio del Getafe, ci aspettavamo una squadra ruvida che avrebbe interrotto il gioco, fatto tanti falli, è giocato sporco, così è stato, ma è stato anche e soprattutto un Getafe nella prima parte di partita che pressava alto e questo probabilmente l'Inter non se lo aspettava, questo probabilmente Conte non se lo aspettava e il risultato è stato un Andanovic miracoloso subito a bloccare Maximovic, difficoltà fino al 25esimo quando un tiro di Lautaro Martinez sblocca un po' l'Inter, sale in cattedra anche Lukaku, fondamentale con il suo fisico, con l'Inter che cercava di scavalcare questo voltissimo centrocampo del Getafe, l'Inter che viene fuori, è stato un buon finale del primo tempo, un buon secondo tempo, si poteva magari cercare di chiudere un po' prima l'episodio del rigore sbagliato dal Getafe, ha svoltato definitivamente l'incontro nella direzione in cui voleva andare l'Inter e si è portato a casa questa grandissima vittoria, importantissima per ribadire come detto le ottime sensazioni che avevamo nel finale del campionato di Serie A, si conferma ancora una volta la porta imbattuta per Samir Andanovic, cinque partite senza subire gol nelle ultime uscite per il portinone Nerazzurro dopo qualche difficoltà oggettiva in questo 2020 nella fase difensiva, si sblocca Lukaku e soprattutto, anzi si sblocca, l'ottava gara consecutiva in cui va in rete in Europa League, Lukaku che ha un grandissimo feeling è tocca quota, 30 gol in questa stagione e si sblocca invece Christian Eriksen, un gol per me fondamentale per un calciatore, ho capito e condiviso il piano partita di Conte che nel primo tempo ha cercato meno di giocare la palla e più magari anche di saltare il centrocampo, ogni tanto Eriksen avrebbe rischiato di perdersi tra le maglie difensive molto strette del Getafe e di subire anche tanti falli, ci stava l'idea di inserirlo dopo ed è risultato fondamentale come abbiamo visto, speriamo che da qui ricominci la scalata di un Eriksen che per me, ripeto, sarà fondamentale per questa Europa League e soprattutto per la prossima stagione. Vado a leggervi rapidamente le pagelle curate dal nostro Antonio Siracusano che ha messo Samir Andanovic ovviamente tra i migliori in campo, voto 7 decisivo in più di un'occasione, sul calcio di rigore ovviamente i demeriti sono dell'attaccante, però Andanovic dava l'impressione di poterlo parare. Godin prende 5,5, fatemi sapere se siete d'accordo, io ho visto un Godin che ha sbagliato tanti passaggi, nel secondo tempo un po' meglio, però anche sul rigore è stato un po' disorientato e spinto dall'attaccante, però con quelle braccia molto larghe è stato un rigore netto. De Frey prende 6,5 nelle pagelle del nostro Antonio, Bastoni prende addirittura 7,5, ha avuto il merito di dare anche il via a entrambi le azioni da gol e per questo motivo il nostro Antonio gli dà il voto altissimo, 7,5, migliori in campo, fateci sapere se siete d'accordo. D'Ambrosio prende 6,5, ha provato anche l'Eurogoal con una super rovesciata, Biraghi senza voto, subentrato all'ottantaquattresimo, Varella voto 7, ha sbagliato qualche passaggio di troppo in avvio ma poi ha preso il ritmo, il passo ed è stato molto importante. Brozovic prende 5,5, ha faticato molto e attenzione poi perché è stato sostituito da Eriksen, chissà che questo non possa essere un segnale anche per il prossimo futuro, Eriksen al suo posto all'ottantunesimo, prende 7 perché entra da subito una scossa alla squadra che stava andando un po' in difficoltà e soprattutto segna. Gagliardini 6, serata così così, anche per me per quanto riguarda Gagliardini, Ashley Young si conferma un po' sulle montagne russe, alterna tante partite molto positive, ha qualche partita con dei passaggi a vuoto, stasera prende 5 perché dalla sua parte si è sofferto e non ha dato quell'apporto offensivo che ci si aspetta. Lukaku prende 6,5, nel secondo tempo un po' scompare ma ha lottato e soprattutto nel primo tempo è stato quello che ha cercato di tenere a galla l'attacco dell'Inter. Lautaro, un voto che fa molto discutere, potrebbe far discutere, fatemi sapere che ne pensate, il nostro Antonio gli dà 6,5, stesso voto di Lukaku, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Alexis Sanchez infine prende 6, è entrato al settantesimo, non ho avuto molto tempo per incidere. Queste sono le nostre pagelle colate dal nostro Antonio Siragusano, vi lascio il link in descrizione per rileggerle, per poterle commentare con calma. In descrizione vi lascio anche il link per il sondaggio, con il nostro sondaggio potete votare il migliore in campo, fatelo, mi raccomando, perché grazie ai vostri voti poi andiamo ad aggiornare la classifica dell'MVP, ovvero del miglior giocatore prima della partita e poi della stagione. Mi raccomando, fatelo e soprattutto, ragazzi, iscrivetevi al nostro canale YouTube Passione Inter perché è totalmente gratis, ho visto che tanti guardano i nostri video senza essere iscritti. Per voi è totalmente gratis, per noi ogni singola iscrizione è veramente fondamentale, quindi mi raccomando, fatelo subito e ascoltate anche le nostre news e le nostre analisi in formato podcast su Springer, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.